La seconda giornata del girone C di Serie C non ha lesinato sorprese. Dopo i primi 180 minuti di campionato, infatti, sono soltanto tre le squadre a punteggio pieno. Il Catania, dopo la goleada all'esordio contro l'Avellino, ha sudato le prove verbiali sette camicie per avere la meglio della Virtus Franca Villa. Dopo essere andati sotto sul colpo di testa di Perez, gli Etnei hanno infatti prima impattato con l'Odi e poi hanno trovato il gol della vittoria con Sarno, complice anche un'incertezza del portiere ospite Costa. Secondo successo arrivato anche per la Ternana, che ha battuto di misura il Potenza, grazie al capolavoro dai 35 metri, firmato da Russo. Palla all'incrocio e tre punti per i Rossoverdi. A completare il pacchetto delle prime è la Viterbese, che ha piazzato la sorpresa della giornata, violando il San Nicola di Bari, per 3-1 grazie all'ispriatissimo Tunkara, che con una doppietta ha costretto al primo KO, i Galletti. Primo squillo in campionato, invece, per la Regina, che ha avuto vita facile contro la Cavese. 5-1 il risultato finale del Granillo. Primo gol in campionato di Castaldo e primi tre punti conquistati dalla Casertana, che con una rete per tempo si è sbarazzata del Redde con un secco 2-0. Stesso punteggio anche fra Paganese e Monopoli, con Schiavino, autore di una doppietta, con un gol da Cineteca, firmato da oltre la metà campo. Festeggia anche il Picerno, che ha battuto fra le Muramiche in Rieti per 2-1. Dopo il doppio vantaggio siglato da Kosovan e Bertolo, nel finale i Laziali hanno provato la rimonta, fermatasi però alla rete, ininfluente ai fini del risultato, di De Paoli. L'unico pareggio della giornata è invece arrivato dal match fra Bisceglie e Catanzaro. Dopo la torreta è firmata da Delisio, a fissare un 1-1 finale è stato Fischnaller, abile a sfruttare uno svarione della difesa di casa, per evitare ai calabresi il primo KO stagionale.